L'impatto ha avuto luogo poco dopo le 4 del mattino a Viale Jenner, al culmine del numero 4. La vittima, italiana di origine bulgaro, residente con la famiglia di Settimo Milanese, fu trasportato all'ospedale Niguarda, dove morì, dai primi rilievi della polizia locale. Il 28 IRLD stava attraversando la traversata dei pedoni, quando un all'auto di piazza Maciacini nella direzione di via Livigno lo ha sopraffatto.